Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, oggi è l'8 di dicembre in maconata, andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele. Ieri ci sono stati dei riansi sull'euro dollaro sulla sterlina, però se guardiamo in generale c'è tanta incertezza, però adesso andiamo a vedere il calendario di ieri, che cosa è successo. Allora partiamo dal calendario di ieri, vedete che ieri c'è stato i dati sulla Cina, che come potete vedere erano negativi, poi abbiamo avuto il dato, attenzione attenzione attenzione, eccolo qua, il Canada, che la decisione sul tasso interesse vedete che anche qui è aumentata di 0,50, e poi abbiamo avuto le scorte di petrolio che è stato anche questo un dato positivo, poi abbiamo avuto in Brasile anche lui un dato sul tasso interesse che è rimasto invariato, sono niente di speciale. Poi oggi, la giornata di oggi, vediamo cosa succede, oggi abbiamo per prima di tutto, abbiamo avuto adesso sullo Yen il PIL che è meno 0,2, dato positivo, poi avremo il discorso del Presidente Lagarde, poi le richieste dei iniziari di disoccupazione, questo è un dato importante, 230, poi vedete che abbiamo il tasso di interesse ancora del Brasile che rimane variato, se no, niente di speciale. Andiamo a vedere adesso i nostri grafici, partiamo con l'euro dollaro, l'euro dollaro, vedete che ieri ha fatto una canzela outside rialzista, per il momento non ha ancora chiuso il ciclo, potrebbe averlo chiuso qua alla 21esima, perché guardate, qui siamo in questo momento, qui è stato alla 19esima, non è possibile dire che sta continuando, adesso dovrebbe chiudere il ciclo, vedremo se andrà a riprendere questo 1,02, 84, questo possiamo mettere una, una, questo, da monitorare questo prezzo qui, ecco qua, lo diciamo monitorare qui, vedremo cosa succede, probabilmente lasciamo correre il nostro euro dollaro, vedere che cosa succede, dovrebbe adesso chiudere, solo guardate sul grafico orario, vedete che sul grafico orario, la situazione, vedete che qui c'era una partenza di un ciclo, possiamo anche metterlo, vedete che qua, se noi portiamo qui, ah qui ci fu un ciclo, che adesso lo vado a mettere così, li abbiamo segnati, allora questo fu una partenza di un ciclo, qua lo mettiamo in rosso, eccolo qua, e poi ci fu la chiusura del ciclo che fu qui, dopo 179 candele, e qui adesso in questo momento, attenzione perché qui, da qui a qua, sono 117, potrebbe ancora continuare a scendere, aspettiamo, attenzione qui la media 50, per il momento lasciamo così come è, per il momento siamo in una fase di momento di incertezza, vedete che qui possiamo avere anche qui questo minimo qua, attenzione questo supporto, lo marchiamo anche questo supporto che può essere un supporto interessante, vedere se andrà a riprendere questo minimo, per il momento anche qui mettiamolo così, e vedremo che cosa succede, poi andiamo adesso a vedere la nostra sterlina, la sterlina che al momento sono date, ecco GBP, 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 USD, eccolo qua, la sterlina, vedete che la sterlina, ieri, ha fatto anche lei una candela positiva, rialzista positiva, perché al momento c'è anche qui, non ha chiuso il ciclo, siamo in una fase di incertezza, e se lo guardiamo sul grafico orario, vedete che la nostra sterlina, possiamo dire che si trova in una fase, anche qua, di lateralità, vedremo se andrà a prendere quell'1,22,830, qua mettiamo anche qui, molto importante, mettere questo doppio minimo da monitorare, questa analisi, vedete che siamo dentro ormai da, si può dire, dal 5,12 a oggi, siamo in dentro tra 1,22 e 1,21,09, staremo a vedere che cosa succede nella giornata di oggi, però al momento c'è tanta in certezza, poi andiamo a vedere il nostro VIX, il VIX, il VIX, vedete che lui, anche qui, ha fatto ieri una candela, qui, quella del 5,12, vedete che qui, scusate, VIX, daily, vedete che ieri ha fatto un'altra candela positiva, vedete che sta continuando a salire, ho detto che potrebbe andare a prendere la media 50, probabilmente è da monitorare, vedete che sta continuando a salire, pian pianino, fa il suo ritracciamento, per mento da qui, contiamo da qui a qui, sono 76 bar, sta facendo la sua, a partenza del suo ciclo, poi andiamo a vedere adesso il DX, l'indice del dollaro, ieri invece, l'indice del dollaro è ritornato al ribasso, vedete che io ho messo col 101 da monitorare, perché è dove potrebbe andare a finire il nostro indice del dollaro, per mento, siamo in una fase di ribassista, deve chiudere il ciclo, vedete che il ciclo l'ha partito qui, 67, l'aveva chiuso qua la 39esima, oppure, e poi è ripartito, per mento anche qua è in una fase di short, andiamo a vedere anche il Dow Jones, Dow Jones come si è comportato ieri, vedete che il Dow Jones, ieri, la vedete la candela di ieri, eccola qui, la candela del 6, questa è quella del 7, vedete che ieri ha fatto una candela inside, ribassista, non è inside, ma ha chiuso, non ha rotto il minimo della giornata precedente, premento anche qui da monitorare, vedete cosa succede, possiamo mettere, se ritraccerà, potrà magari arrivare a questo 30688, lasciamo qui come punto di riferimento, non facciamo niente di speciale, perché non ci sono le condizioni per me di entrata, poi l'SP500, l'SP500, ieri ha fatto un'altra candela negativa, è andato a prendere, vedete che qui è andato a prendere questo 3.917, anche qui potremmo andare a prendere i 3.797, se lo guardate sul grafico orario, vedete che sul grafico orario, al momento, siamo in una fase di incertezza, torniamo anche, possiamo togliere questo Fibonacci, vedete che qui, al momento, c'è questo minimo, questo supporto, vedete che qui, possiamo vedere che cosa succede, premento, siamo all'interno, vedete che qui, il supporto, se dovesse rompere questo supporto, allora, attenzione, potrebbe crollare il nostro, come si chiama, il nostro SP500, perché poi vedete che dovrebbe andare a prendere, dopo il prossimo minimo, lo andiamo a monitorare anche qui, mettiamo come prossimo minimo anche questo, queste sono le fasi, dove potrebbe andare a finire, aspettiamo di vedere che cosa succede, premento, comunque, c'è tanta incertezza. Poi, andiamo adesso a vedere il DAX, eccolo qua il DAX, DAX, come si è comportato ieri il DAX? Beh, vedete che il DAX siamo sempre nella fase gialla, premento ha rotto, sta, vedremo se riuscirà, se romperà questo 4.118, 4.128, per un momento siamo qui all'interno, premento, non ci sono, è salito fortissimo, sta scendendo pian pianino, vuol dire che potrebbe andare qua, rimbalzare, e poi ripartire a Riazzo, staremo, vedete, monitoriamo, non facciamo niente, non ci sono le condizioni di entrata. Il MIB, il MIB invece ha già toccato il supporto, gli ha toccato proprio il supporto, poi rimbalzato leggermente, adesso vedremo cosa succede, se dovesse rompere, allora potrebbe far male, anche qui siamo in una fase di accumulo, niente da fare, non ci sono le condizioni di entrata. Poi dopo il MIB andiamo a vedere il nostro GOLD, eccolo qua il GOLD, GOLD, com'è la situazione sul GOLD? GOLD che ieri, dopo aver fatto questa discesa, vedete che qui c'era stato quel minimo, eccolo qui, questo minimo qui da 13 bar, adesso siamo alla 23esma, potrebbe adesso continuare la sua discesa, per un momento anche qui, aspettiamo, vedremo se romperà quel 1.728, per un momento siamo in attesa, è inutile fare, aprire mercato, che non ci sono le condizioni di entrata. Dopo il GOLD, il petrolio, il nostro petrolio, ieri ci sono stati dei dati positivi, eccolo qua il petrolio, il petrolio che sta scendendo, vedete, il petrolio che scende, vedete che questo è al minimo, ieri questo è al minimo del 7, adesso questo è il minimo che comanda, e vedete che potrebbe andare a prendere, come avevo detto, i 62 tempo fa, vedete che qui è inutile aprire posizioni, probabilmente aspettiamo di vedere che cosa succede. Terminiamo con il gas, un gas che ieri ha fatto una candela positiva, attenzione, questo potrebbe essere il minimo della ripartenza, non facciamo niente, aspettiamo, perché non ci sono le condizioni di entrata. Io vi ringrazio, vi auguro ancora a tutti una buona giornata, buon lavoro, buonanotte, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!